Questo oggi per ringraziarvi del supporto che state dando a questi Reel vi dedico la miglior salsiccia e friarelli che potete trovare al mondo non a caso l'ho suggerita al miglior pizzaiolo al mondo e lui l'ha inserita nel suo menù stendiamo la nostra pizza 70% di idratazione lievitata 24 ore e via con questa spettacolare vellutata di friarelli mamma mia mamma mia che cosa non è via col fior di latte brutto brutto del supermercato e mettiamo anche un po' di buona salsiccia dato che è buona va mettiamola un altro po' vado quindi a impalare da solo perché sono sempre solo a fare queste cose nessuno mi aiuta e via in forno mi raccomando fate sentire le fiamme fate sentire il calore a questa pizza però giratela perché se no si brucia e voilà che spettacolo un filo d'olio a crudo buono e questa è la nostra pizza davvero una roba assurda mi raccomando lasciate il vostro mi piace commentate se volete vedere una vostra pizza realizzata ciao